E' chiaro, qua non c'è il personaggio che incontra un altro, succede un'avventura, poi arriva l'imprevisto, non c'è gente che si ama, che si separa, non ci sono storie di mafia, non c'è un lot. Ma c'è sicuramente un filo rosso, no? La volta scorsa parlavo, scusa, parlavo di una parola che poi penso che è molto chiara a te nel libro, di luminescenza, è come se i sassolini che torna, è una parola che torna. Io ho notato che la parola più ricorrente è esterno, ho notato che uso la parola esterno e poi in 12-13 racconto, non male. La luminescenza... Questa forse sono l'unico...